buongiorno piacere di conoscerla sono paolo rossi consulente vendita del gruppo mobility e la sto videochiamando per soddisfare la sua richiesta di approfondimenti in merito alla vettura di suo interesse come vede sono all'interno dello showroom e grazie a questa modalità potrò darle l'opportunità di vedere i dettagli direttamente a bordo dell'auto come può vedere l'auto monta il live cockpit professional sistemi di infotainment e connettività di ultima generazione interni in pelle e un impianto audio ad alta fedeltà vediamo adesso anche la capienza del bagagliaio la terza fila di sedili è abbattibile elettricamente e lo spazio di carico è notevole dove anche il passeggino dei bambini ci può stare senza problemi vediamo insieme adesso il colore su cui era indeciso questo è il blu di suo gradimento se non fosse convinto la gamma colori da cui può attingere estremamente ampia sia per gli interni che per gli esterni adesso torno alla mia postazione in modo di poter concludere il preventivo e la relativa offerta di leasing dopodiché gliela invierò via mail inoltre grazie alle nostre nuove tecnologie possiamo fare tutto a distanza dalla firma digitale del contatto di finanziamento alla consegna a casa della sua auto magari con un bel video dove le spiego come configurare il suo bluetooth a presto allora e si ricordi per qualsiasi altro dubbio non serve venire basta una chiamata anzi una videochiamata